Ci troviamo con il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania. Il sindaco, il suo secondo mandato, sta portando avanti tantissimi progetti per lo sviluppo di Mussomeli, per far conoscere Mussomeli nel mondo. Tra questi progetti non va dimenticato quello case a un euro, che è già riscosso tantissimo successo. Parliamo un po' di questo sviluppo del territorio, come l'ha impostato lei e la sua amministrazione. Buongiorno, benvenuti e grazie per questa intervista. Una buona giornata a tutti coloro che ci stanno seguendo. È un progetto che parte da lontano. Io mi sono insediato a giugno 2015 la prima volta, adesso sono al mio secondo mandato da qualche mese. Già cinque anni fa avevamo avuto la visione di come volevamo che fosse Mussomeli fra qualche anno. L'obiettivo nostro era sviluppare Mussomeli sotto il profilo culturale e turistico. Abbiamo cercato di programmare e pianificare una serie di interventi, il cui obiettivo fosse strumentale a raggiungere lo sviluppo turistico del territorio. Era innegabile che per poter sviluppare turisticamente Mussomeli bisognava intervenire su più fronti. Intanto sul fronte del miglioramento sotto il profilo ambientale. Siamo partiti allora nel 2015 con una raccolta differenziata che era ferma al palo, era appena l'1%. Oggi, proprio il dato di luglio 2021, ci certifica che Mussomeli è arrivata allo straordinario traguardo del 78%. Ovviamente migliorare l'ambiente significa rendere la città più pulita e più fruibile ai visitatori e ai turisti. Stiamo lavorando molto sul profilo delle infrastrutture perché sviluppare turisticamente un posto significa renderlo anche accessibile. Per cui abbiamo lavorato al miglioramento dell'asse viario del nostro territorio. Abbiamo già completato, siamo già in fase di completamento della ricolificazione della strada Mussomeli-Acquaviva che collega Mussomeli con lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. A giorni finiranno anche la San Giovanni Mussomeli, quindi avremo Mussomeli più raggiungibile e anche più sicura da raggiungere proprio a partire dallo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Stiamo lavorando sull'altro fronte invece. Abbiamo presentato il progetto che è stato finanziato alla SP38 Mussomeli-Caltanissetta per circa 14 milioni e 400 mila euro. Contiamo che entro fine anno questo progetto vada a gara finalmente ed era da decenni che era necessario intervenire. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto comunicazione che nell'Emore che il progetto più strutturato, più corposo da 14 milioni e 400 mila euro vada a compimento, saranno effettuati dei lavori intermedi da circa 600 mila euro di adeguamento del manto stradale, sempre della SP38. Assieme ad altri comuni si è lavorato anche nei mesi scorsi con un accordo che ha coinvolto addirittura cinque comuni del Vallone, oltre che il Libero Consorzio della provincia, per l'ammodernamento della Mussomeli-Villalba-Resuttano fino allo sbocco dell'autostrada Palermo-Catania. Anche in questo caso si tratta di un progetto già finanziato da oltre 20 milioni di euro. Quindi l'obiettivo è, fra due o tre anni, rendere il Mussomeli assolutamente raggiungibile ai turisti e soprattutto renderla più fruibile anche all'attività di impresa. Stiamo lavorando anche sul tema della leva fiscale, quindi zone franche montane, per rendere sotto il profilo fiscale più appetibile e attrattiva agli investimenti di piccole e medie imprese. Il progetto delle zone franche montane prevede appunto l'abbattimento dell'IRPEF in favore delle imprese, uno sgravio sui contributi previdenziali per i lavoratori assunti, quindi utilizzare la leva fiscale per renderlo particolarmente attrattiva. E poi ovviamente stiamo facendo un grande lavoro sul tema dell'efficientamento energetico per rendere Mussomeli più al passo con i tempi, innovativa. A breve partirà la gara per l'approvazione, per l'inizio dei lavori, della sostituzione di tutti gli impianti di illuminazione del comune di Mussomeli, oltre 2.700 punti luce, un progetto di 1.800.000. partiranno i lavori di efficientamento energetico del nostro comune, anche qui circa 1.700.000 euro di progetti, e l'efficientamento energetico di tutte le scuole mussomelesi. Quindi un lavoro molto capillare che coinvolge anche il miglioramento dell'impiantistica sportiva, perché abbiamo completato la realizzazione della palestra vicino al campo sportivo, abbiamo avuto finanziato finalmente, dopo decenni, il nuovo campo sportivo con erba sintetica, anche qui aspettiamo la notifica del decreto e l'avvio definitivo dei lavori. Inizieranno a breve anche i lavori di riqualificazione degli impianti di tennis a sud del paese, quindi stiamo facendo un lavoro per migliorare anche l'impiantistica presente a Mussomeli. E poi ovviamente stiamo lavorando sui temi dello sviluppo economico, e sotto questo profilo abbiamo attenzionato quelli che secondo noi sono gli asset produttivi del territorio di Mussomeli, costituiti prevalentemente, a parte il terziario pubblico ovviamente, costituiti prevalentemente da cosa? Dall'edilizia. Abbiamo lavorato a un parco progetti imponente, stiamo parlando di circa 80 milioni di euro di progetti presentati, di cui ben oltre 50 milioni già finanziati. Stiamo parlando anche della valorizzazione e della riqualificazione del nostro centro storico, appunto attraverso il progetto Caseoneuro. Ad oggi siamo ad oltre 230 case vendute a cittadini stranieri di 18 nazionalità diverse. Abbiamo siglato accordi di collaborazione con importanti istituzioni, a partire ad esempio con un fondo di investimento inglese, a partire dalla Camera di Commercio Argentina in Italia, che proprio in questi giorni si trova a Mussomeli, e con la quale Camera di Commercio stiamo portando avanti diverse progettualità finalizzate all'attrazione di capitali stranieri. Parliamo anche dell'accordo di collaborazione sottoscritto con la Commissione Cultura del Parlamento di Mosca e infine con Confapi, che è una delle confederazioni delle piccole e medie imprese più rappresentative in ambito nazionale, con diverse centinaia di migliaia di imprese associate e quindi con una capacità di fare sistema importante. L'obiettivo è valorizzare anche le produzioni del territorio e quindi stiamo spingendo molto sui temi dell'aggregazione dei produttori agricoli e zootecnici finalizzati a portare avanti la filiera corta sia nei prodotti agricoli, quindi prodotti a chilometro zero, sia nei prodotti zootecnici. Proprio in questi giorni, domani inizia la prima giornata dell'Antica Fiera del Bestiame, la centonovesima edizione dell'Antica Fiera del Bestiame, l'obiettivo di queste tre giornate è quello di partire dal riconoscimento del disciplinare e del marchio Agnello Siciliano Qualità Sicura, che è un progetto che proprio dalla Fiera del Castello è partito qualche anno fa, ha avuto il riconoscimento dell'Unione Europea e della Regione Siciliana. Adesso stiamo lavorando alla fase 2, cioè alla valorizzazione del processo di trasformazione delle carni e ovine. Avremo infatti importanti momenti informativi, scientifici e anche di tipo commerciale che vanno in questa direzione. Quindi l'obiettivo è quello di far crescere e sviluppare sul piano turistico la nostra Mussomeli. Ovviamente sviluppare il turismo significa creare indotto, creare occupazione, creare economia e alimentare i consumi interni. I primi dati ci danno ragione, se io penso che nei dati ufficiali dell'Osservatorio Regionale al Turismo ci dicono che nel 2015 Mussomeli aveva un numero di presenze pari a circa più o meno 350 presenze l'anno. Nel 2018 lo stesso osservatorio ci certifica che il numero di presenze a Mussomeli era aumentato considerevolmente passando addirittura a 4.000 presenze l'anno, quindi da 350 presenze l'anno a 4.000 presenze l'anno. Questo ci dice che siamo sulla strada giusta, ovviamente c'è ancora tanto lavoro da fare, ma abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare. Questo è l'aspetto più importante. C'è da dire comunque che grazie al suo impegno quotidiano Mussomeli, appunto, come ho detto all'inizio, è andata alla ribalta, non solo nazionale ma anche internazionale. Quindi questa costante promozione del territorio anche all'estero è una cosa che bisogna riconoscerle. Non tutto questo accade negli altri comuni. Per quanto riguarda la sua adesione a Fratelli d'Italia? Sì, ecco mi permetta di dire proprio questo qua. In effetti abbiamo spinto molto sul tema del marketing della comunicazione in Italia e all'estero. Tant'è anche qui che una verifica fatta con Google Analytics ci dice che la popolarità del comune di Mussomeli nel corso di questi ultimi quattro anni è aumentata considerevolmente. D'altro canto abbiamo avuto a Mussomeli le più grandi emittenti televisive, dalla CNN a China TV, alla prima emittente televisiva russa, olandese, francese, inglese. Quindi questo intenso lavoro di promozione ovviamente sta portando i frutti e questi frutti vanno tutti a beneficio dei nostri operatori economici e quindi penso a tutti coloro che gestiscono strutture ricettive, penso a tutte le attività ristorative che sono a Mussomeli, dove non è raro, anzi ormai è molto usuale, entrare e sentire e parlare seduti ai tavoli cittadini con lingue diverse, dal francese all'inglese e questo onestamente devo dire che è una grande soddisfazione. Ovviamente il mio impegno in Fratelli d'Italia, dopo cinque anni di intensa attività amministrativa, ho sentito il bisogno di ancorarmi ad un partito che fa della valorizzazione dell'identità europea, nazionale e locale il suo cavallo di battaglia. I temi che sono comuni e che appartengono ai valori di Fratelli d'Italia sono quelli legati appunto alla difesa dell'identità delle piccole e medie imprese, che è il tessuto portante del nostro territorio nazionale, se noi pensiamo che oltre il 90% delle piccole e medie imprese sono piccole e medie imprese con meno di nove dipendenti, quindi significa difendere queste imprese, significa difendere il tessuto produttivo portante della nostra Italia, difendere il creato, la natura, significa difendere il creato, difendere l'ambiente significa difendere il creato, quindi sono valori sui quali non ho fatto fatica a rispecchiarmi e ovviamente il mio impegno è tutto dedicato alla valorizzazione, alla difesa e allo sviluppo del mio territorio, che non è solo ovviamente Mussomedi, ma è un comprensorio più ampio, penso a tutta l'area interna della provincia nissena, perché ritengo che in una competizione globale come quella in cui ormai siamo proiettati dal momento in cui la globalizzazione ha preso il sopravvento, presentarsi come singolo comune sarebbe poco strategico e poco efficace. Ritengo invece che ragionando come comprensorio si possono avere le carte in regola per potersi presentare con elementi di attrattività a tutti gli stakeholder, a tutti i portatori di interesse presenti in ambito globale e soprattutto si possa essere attrattivi nei confronti di chi ama questo territorio, ama l'Italia, ama la Sicilia, ama il patrimonio materiale e immateriale, che in questi territori si trovano. E quindi questa è la mia battaglia a difesa di questo territorio interno del Nisseno. Grazie. Grazie. Grazie.